e si lo abbiamo chiesto proprio a Rolando Maran dopo 47 partite come si fa a mettere in difficoltà e a battere la Juventus di Antonio Conte e questo è il primo stralcio della conferenza stampa di questa mattina del tecnico Rosso Azzurro che vi proponiamo come si batte la Juventus? Fino ad adesso tocca a noi, per cui dovremmo essere bravi sicuramente al di là delle battute e degli scherzi, sappiamo che per affrontare la Juve, proprio per i numeri che ho appena citati, bisogna essere perfetti, bisogna dare sicuramente più del massimo e c'è questa voglia, c'è questa voglia di dare più del massimo, di spingere tutti in maniera come non abbiamo mai fatto Ma Rolando Maran ne ha anche parlato dell'aspetto tattico di questa partita, in particolare della marcatura di Andrea Pirlo e di ciò che ha chiesto ai suoi attaccanti, sentiamo Anche con la Juve dobbiamo essere bravi a capire quali sono i punti magari dove possiamo più incidere, sicuramente tra questi c'è anche riuscire a rigenerare il più possibile l'azione di Pirlo Il sacrificio, perché le qualità le conosciamo, anche le spiriti di sacrificio che hanno i nostri attaccanti, però domani tutto questo dovrà essere esaltato Non è mancato poi da parte del mister Rosso Azzurro un accenno al pubblico etneo, al pubblico catanese che gremirà completamente lo stadio Massimino che per la partita con la Juventus di domani alle 12.70 sarà completamente gremito a forti tinte Rosso Azzurro Sentiamo Maran e poi la linea tornerà allo studio Confido molto in quelli che verranno allo stadio per rifare Catania, perché saranno molti e come sempre saranno pronti a sostenerci nei momenti di difficoltà e ad esaltarsi nei momenti poi dove le cose sapremo farle bene Prendiamo la Primer Adietro Adietro Grazie a tutti